Partire dal centro di Roma per raggiungere il mare di Pomezzi a bordo della propria bici in sicurezza è l'ambiziosa e interessante idea di un gruppo di volontari amanti delle due ruote che hanno individuato un percorso tutto immerso nel verde che dalla capitale passando attraverso la riserva di Decima Malafede arriva a Campo Ascolano e dunque al mare di Torvaianica. L'idea è stata sposata con favore dai residenti che si sono subito attivati per ridare decoro alla pista di Campo Ascolano fondamentale per completare il percorso fino al mare. Siamo stati contattati da questa associazione Green Mobility Tevere APS interessati molto a questa ciclabile trascurata perché loro hanno un bel progetto in mente se non fosse stato per loro che si sono interessati a questa cosa facendo domanda alla provincia siamo stati autorizzati a dare una prima sistemata in attesa che la provincia ci aiuta a portare a termine quello che abbiamo iniziato noi come volontari. Vorremmo riqualificare questa meravigliosa pista ciclabile perché secondo noi è un patrimonio del quartiere ma anche della città. Qui atterrano capi di Stato, capi di Governo, personaggi illustri che vedono, il primo scorcio d'Italia che vedono è questo quindi dovrebbero aiutarci, in fondo sono 4 chilometri e mezzo. Noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo bisogno che le istituzioni ci supportino. Questa è stata un'esperienza splendida perché abbiamo chiesto un permesso alla provincia di pulire quella pista ciclabile che era di loro competenza e loro ci hanno risposto in pochissimi giorni quindi sono stati da quel punto di vista eccezionali non ci hanno dato un aiuto materiale però abbiamo incontrato in loco un ambiente molto ricettivo che ci ha accolto benissimo e quindi si è creato proprio una specie di ambiente di urbanismo tattico io lo chiamo. Per me è un modello anche per altre zone, questo secondo me è il futuro bisogna darsi da fare perché le istituzioni non ce la fanno per vari motivi.